Si concluderà con un'asta benefica con la maglia di Federico Chiesa, il giocatore della Fiorentina in palio, la giornata di sport e divertimento organizzata a Poggio Accaiano con lo scopo di raccogliere soldi per la fondazione Tommasino Bacciotti che da oltre 20 anni è impegnata a fianco dell'ospedale pediatrico Maier di Firenze. L'iniziativa si terrà lunedì 13 maggio al campo sportivo Martini di Poggio Accaiano dove si affronteranno la squadra dell'ospedale Maier e le stelle del torneo dei Rioni, formazioni che saranno allenate da Giancarlo Antonioni, club manager della Fiorentina, e Aldo Firicano, ex capitano della squadra Viola. Dopo l'incontro l'asta di beneficenza organizzata grazie alla collaborazione del Rotary Club Prato insieme alla scena alle scuderie Medice e servita dagli studenti del Datini. L'intero ricavato dell'iniziativa contribuirà al mantenimento degli appartamenti gestiti dall'Associazione Tommasino Bacciotti intitolata al bimbo di 24 mesi morto di tumore nel 1999 e destinati alle famiglie dei pazienti ricoverati al Maier. Questa giornata, questi fondi raccolti andranno nel progetto Casa Accoglienza Tommasino perché la fondazione, proprio il mese prossimo, inaugurerà il ventunesimo appartamento che mettiamo a disposizione dell'ospedale Maier e soprattutto mettiamo a disposizione gratuitamente di tutte quelle famiglie che provengono da fuori regione con il bambino malato di tumore. Quindi è un percorso di guarigione in più perché poter dare un appartamento, ricompattare, costruire la famiglia che lasciano al paese di provenienza è importante per il bambino malato.